Dopo più di un anno giunge al termine la vicenda della vendita della parte commerciale di Gesam che passa definitivamente alla Canarbino SPA, già socia di Gesam per il 40%, che ha rilevato le quote versando nelle casse comunali 16 milioni di euro. Un'operazione che il comune ha dovuto fare a seguito della legge Madia che vieta ai comuni di detenere proprietà in società che svolgono attività commerciali. Ma a questo punto con la cessione di Gesam Gas e Luce, cosa cambia per i cittadini e per il comune? Lo abbiamo chiesto al vice sindaco Giovanni Lemucchi. Cosa cambia? Per quanto riguarda gli utenti non cambia niente, non cambia. In prospettiva, almeno nell'immediato, in prospettiva riteniamo anzi che ci siano dei cambiamenti positivi perché la società entra a far parte di un gruppo importante nel settore energetico che ha già sviluppato sul Lucca perché ricordiamo che erano soci nostri, soci della Gesam al 40%, un'importante attività di tipo industriale per cui a questo punto sono già presenti e saranno ulteriormente radicati sul territorio sia in termini anche di struttura proprio e di personale e di iniziative sia commerciali sia appunto più generali di investimenti che avranno e svilupperanno ulteriormente nella nostra città.